Il Vasto Marina cade in casa contro la Torrese, decide l'incontro una rete di Santi Rocco al 29esimo del primo tempo, ma andiamo per ordine. Nei locali Mister Borrelli schierano 4-3-3 dopo il successo nel derby con il Locupello, gli ospiti rispondono con un 3-5-2. I giallorossi vengono da due risultati utili consecutivi e vogliono allungare la striscia positiva. Con le immagini di Edoardo D'Addiero passiamo agli elites della gara. Per la prima azione degna di nota bisogna attendere il 19esimo traversone per Mastrilli, il numero 3 calcia di prima intenzione. La sua conclusione si stampa sulla traversa, gesto tecnico che merita il rallenti vista la bella coordinazione del terzino sinistro. Al 29esimo gli ospiti passano in vantaggio con un bel colpo di testa di Santi Rocco che indovina l'angolo giusto, questa la sua incornata. Al 34esimo Acrobazia di Federico, conclusione debole e velleitaria. Al 35esimo conclusione di Mastrilli, tutto facile per Gerbic che blocca in sicurezza. Da qui a fine primo tempo non succede altro. Nella ripresa sono sempre gli ospiti più pericolosi. Al quinto, torsione di testa di Santi Rocco che per poco non replica la rete siglata. Nel primo tempo al 15esimo, infortunio per Lovergine che è costretto a lasciare il campo al suo posto. Entra Santone al 23esimo. Santi Rocco scatta in profondità e conclude. Attento Gerbic che respinge con i piedi. Al 27esimo, finalmente si vede il Vasto Marina con un calcio piazzato di letto. Palla di poco a lato. Al 32esimo, Festa entra in area e conclude. L'estremo di Clasa blocca in sicurezza. Al 37esimo, grande giocata di Festa. Finta e conclusione dal limite. Gerbic vola e toglie le ragnatele dal 7. Entrambi i gesti tecnici meritano il replay. Al 40esimo e la traversa a negare la gioia del 2-0 a Festa dopo una splendida azione corale. Al 50esimo, ancora pericolosa la Torrese. Si salva il Vasto Marina. Dopo 7 minuti di recupero non succede altro. La Torrese espugna il Fantini meritatamente dopo una gara ben giocata. Il Vasto Marina, troppo rinunciatario, resta a bocca asciutta. Mister Cristofori, buona prestazione della tua squadra. Forse l'1-0 vi sta anche stretto. Sì, viste le occasioni nitide sì, però il risultato ci premia. Però devo fare i complimenti alla Bacica Lupo che ha fatto una partita a Cagliarda. Sapevamo che affrontavamo una squadra aggressiva. È vero che noi abbiamo creato qualche occasione in più nitida, ma loro hanno fatto una grossa pressione nel secondo tempo. L'episodio del gol è molto dubbio, su una palla uscita o non uscita. Il mister mi dice che era uscita. Quindi abbiamo trovato l'episodio del gol. Poi abbiamo tenuto botta tutto il secondo tempo. Sì, è vero che qualche occasione in più c'è stata, però faccio i complimenti alla Bacica Lupo perché mi aspettavo una squadra del genere. era una partita difficile, quindi sono tre punti veramente fondamentali. Terzo risultato utile consecutivo, non vi fermate più? Noi siamo un gruppo giovane, una squadra che ha cambiato tanto in estate. Ci siamo prefissati quello di fare un buon campionato senza porci limiti. È normale che adesso l'appetito viene mangiando e siamo lassù. Insomma, ripeto, noi pensiamo a partita dopo partita. Quello che verrà poi alla fine del campionato vedremo. Mister Borrelli, oggi la sua squadra è un po' troppo rinunciatari. Ma no, non è quello. Poi i cambi di una gara sono anche strani, o meglio. C'è la fase nella quale c'è la palla, c'è la fase nella quale non ce l'hai. E quindi tutte le dinamiche sono anche un po' condizionate da questo. È anche difficile poi, tra l'altro, giocare su una squadra organizzata che sta sotto l'unità della palla. Vi assicuro che puoi fare anche delle esercitazioni durature nel tempo e non capi via un ragno da un buco. Quindi non è mai semplice. Poi, secondo tempo, siamo rientrati in campo con un po' più di geometrie perché Daniele ci ha dato più qualità sicuramente. Abbiamo provato anche comunque a spingere molto a livello atletico, a livello anche di pressione. Naturalmente, quando cerchi di recuperare, crei e lasci qualcosina in più. Loro sono stati bravi anche a ripartire. E nella logica delle cose, insomma. Certo è, perderla con un episodio così mi fa dispiacere. Però, per quanto riguarda la prestazione, ma soprattutto la prestazione al secondo tempo, mi lascia sereno sotto l'aspetto che il lavoro che è stato fatto fino adesso è giusto. E dobbiamo insistere su questa falsariga. Il fortuno di La Vergine, come sta il ragazzo? Ha preso una brutta botta, sembrerebbe una botta. Speriamo non sia nulla di che, perché mi dispiace a prescindere. Insomma, quando vedo questi episodi, poi, sia per quanto riguarda la mia squadra, ma anche quell'avversaria, il fair play vuole che sia dispiaciuto. Ma speriamo appunto che non sia nulla di grave.